Oggi vedremo i capitoli 39 e 40 perché stiamo seguendo nella lettura il percorso su questo nuovo modo di concepire il ruolo dell'intellettuale fondamentalmente. Quindi quell'idea di spirito di servizio, si può essere buoni funzionari, buoni servitori anche sotto cattivi tiranni. E questo è un po' il messaggio. Però prima di parlare del classico, di passare al classico, pensavo di fare un altro po' dello studio di Tacito. Noi abbiamo fatto l'agricola, la vita l'agricola e ci siamo fermati lì. Quindi di Tacito oggi vi presenterò il Dialogus de Oratoribus perché poi per il versante a letteratura l'argomento di oggi sarà Quintiliano. E quindi è un punto di contatto fra i due. Perché Quintiliano con la sua opera risponde alla corruzione, alla crisi dell'eloquenza. E secondo la sua prospettiva è Tacito nel Dialogus de Oratoribus affronta lo stesso argomento, presentando però un altro punto di vista, un'altra idea della causa della crisi dell'eloquenza. Quindi vediamo il Dialogus de Oratoribus intanto, poi inframezziamo con il classico latino e quindi vi presenterò Quintiliano. Per tutto questo di cui ci occuperemo oggi ho selezionato anche delle video lezioni, delle mappe concettuali, del materiale che ho messo su Edmodo. Poi vi darò anche link e quant'altro. Però su Edmodo vi ho inserito il materiale utile non nel grande gruppo, nel sottogruppo in cui ci siete soltanto voi. Perché è materiale appunto rivolto soltanto al vostro gruppo classe. Precisazione al riguardo. Allora, le video lezioni sia su Tacito che su Quintiliano sono corredate da mappe concettuali che seguono fedelmente la video lezione. Quindi se ve le stampate poi vi possono aiutare anche a raccogliere le idee per l'esposizione. Io adesso invece per Tacito, per il Dialogus de Oratoribus, utilizzerò un altro tipo di mappa che pure vi ho condiviso. E poi anche la lezione la troverete di oggi, la troverete registrata. Allora, vediamo se riesco a recuperarmi il materiale e a proiettarlo. Dunque, eccolo qua. Allora, ecco, perfetto, Dialogus de Oratoribus. Allora, intanto il Dialogus de Oratoribus ha una datazione controversa perché una data attribuita era l'80 d.C. e l'avrebbero, diciamo, collocato come una delle prime opere di Tacito. L'altra data, che invece è quella accettata dai più, è il 102 d.C. Un'altra controversia riguarda l'attribuzione perché quest'opera di Tacito ha delle caratteristiche anche stilistiche molto diverse, molto anomale rispetto alla tipologia di scrittura di Tacito. e per cui non volevano, cioè molti dicevano che non fosse di Tacito appunto. In realtà è stata poi, diciamo, riconosciuta o comunque accettata come opera di Tacito perché sono state date delle spiegazioni alla differenza stilistica. Il Dialogus de Oratoribus, infatti, riprende il modello del trattato ciceroniano. Infatti abbiamo una ambientazione con una cornice perché dei personaggi che sono Marco Apro e Giulio II si recano a casa di cura coriazio materno dove si sarebbe trovato anche presente Tacito che riporta la discussione a cui avrebbe assistito. e quindi il dialogo sarebbe avvenuto nel 75 d.C. I personaggi che prendono parte a questo dialogo sono i maggiori oratori del tempo. Qua io ho messo una nota appunto a casa di curiazio materno. Curiazio materno avrebbe deciso di abbandonare la retorica per dedicarsi alla poesia. Per cui Marco Apro e Giulio II vanno a trovarlo e mentre curiazio materno difende, loda, la poesia e l'ozium Apro sostiene la bellezza della retorica, il prestigio che dà a chi la pratica e nel frattempo si presenta Vipstano Messalla e a questo punto il discorso comincia a ruotare attorno alla causa della corruzione e dell'eloquenza. e qui le posizioni che vengono assunte sono diverse. Mentre Apro sostiene che la decadenza in realtà non è una vera e propria decadenza ma è un'evoluzione di tipo stilistico, Messalla ribatte che si tratta invece di decadenza, di impoverimento dai contenuti e che queste declamazioni sterili sono dovute ad una formazione inadeguata. La colpa di questo è da attribuire alla famiglia che appunto pecca in termini educativi ma anche alla scuola. E questa è una posizione che poi si ritrova anche in quintiliano. Buongiorno, come posso aiutarti? Si intromette. Ok, invece Materno riporta appunto il punto di vista fondamentalmente di tacito e dice che la causa in realtà è una causa politica, cioè la causa della corruzione e dell'eloquenza perché nel passaggio dalla Repubblica al Principato col venire meno del libero dibattito anche l'eloquenza si è impoverita. Tuttavia la posizione non assume toni polemici di attacco al nuovo ordinamento costituzionale che è quello dell'Impero ma diciamo toni mitigati perché lui afferma che l'eloquenza è alumna licenzie quam stulti appellant libertatem cioè è figlia della licenziosità, della sfrenatezza che gli stolti chiamano libertà. Quindi, come dire, non c'è l'attacco polemico nei confronti dell'ordine costituito. Il tacito illustra, diciamo, la problematica della corruzione e dell'eloquenza è una persona che non solo la conosce da un punto di vista teorico ma che ha anche un'esperienza pratica diretta. La tematica era stata affrontata già da Petronio vi ricordate che veniva rappresentata un po' l'uso della declamazione e vedremo come anche Quintiliano affronta la questione e vedremo che lo fa però facendo un altro tipo di disamina e prospettando un altro tipo di soluzione. La corruzione e l'eloquenza faceva sempre riferimento al punto di massimo sviluppo raggiunto con Cicerone e poi per contrasto l'epoca attuale e spesso veniva riportata all'aspetto stilistico anche perché sappiamo che lo stile di Cicerone è diametralmente opposto potremmo dire allo stile che si afferma per esempio con Seneca quella prosa asciutta che poi è vicino anche allo stesso stile di Tava in realtà chiaramente la questione non è soltanto stilistica ma anche di tipo appunto contenutistico. Il merito di Tacito sta appunto nell'aver individuato le cause sul piano politico e aver messo in evidenza come la stretta relazione esistente fra la libertà politica e l'oratoria. Fondamentalmente i punti del discorso sono questi. Per quanto riguarda il suo giudizio sul Principato vedete che nonostante diciamo abbia individuato la causa come una causa politica non c'è non c'è un giudizio positivo ma non c'è neanche una polemica spiccata. Però il giudizio comunque positivo sul Principato non è un giudizio chiaro. è un giudizio come dire che palesa uno sguardo critico e problematico e questa è una caratteristica comunque rintracciabile in tutta l'opera di Tacito. Va bene. E questo per quanto riguarda il dialogus de oratoribus. Allora vediamo se avete delle domande da farmi e così poi proseguiamo. Attendo un attimo tutto chiaro? Vi ho addormentati? Puoi andare alle macchinette? Certo prendimi un caffè a che ci sei va? Ok va benissimo allora proseguiamo con il classico prendiamo il documento Ecco qua Allora Unc rerum cursum quanquam nulla verborum iactantia epistulis agricole auctum ut erat domiziano moris fronte letus pectore ancius ex cepit Allora dunque ex cepit Unc cursum Unc cursum rerum quindi accolse questo corso degli eventi delle cose quamquam benché siccome abbiamo nulla ci va la negazione no? Abbiamo il participio auctum che concorda con cursum quindi abbiamo un participio congiunto benché non accresciuto nulla iactantia da nessuna abbaldanza di parole nelle lettere di agricola come era a domiziano proprio del costume quindi come era costume di domiziano lieto nell'espressione ansioso nell'animo inerat conscienzia derisui fuisse nu per falsum emarche germania triunfum emptis per commercia quorum habitus et crinis incaptivorum speciem formarentur allora inerat coscienzia è il soggetto inerat e poi abbiamo una subordinata infinitiva quindi fuisse fuisse derisui e triunfum nuper falsum e germania emptis per commercia sottinteso un iis quorum habitus et crinis sta per crines formarentur in speciem captivorum quindi era insita in lui in domiziano la consapevolezza che era stato di scherno quindi questo è un dativo di fine era stato di scherno motivo di scherno il falso trionfo recente dalla germania comprati tramite commercio quelli il cui aspetto e i cui capelli erano stati atteggiati ad aspetto di prigionieri questo emptis è un possiamo intenderlo come un ablativo assoluto at nunc veram magnamque victoriam tot milibus ostium cesis ingenti fama celebrari allora qui il discorso è in diretto libero quindi at nunc celebrari infinito passivo suo soggetto veram et magnam victoriam tot milibus ostium cesis questo può essere inteso come un ablativo assoluto ingenti fama complemento di modo quindi ma adesso veniva celebrata una vera e grande vittoria essendo stati uccisi essendo state uccise tante migliaia di nemici con ingente fama id sibi maxime formidolosum privati ominis nomen supra principem attolli allora sibi id sottinteso s maxime formidolosum nomen privati ominis attolli supra principem sempre discorso indiretto libero questo per lui era massimamente spaventoso preoccupante e poi abbiamo l'infinitiva di tipo esplicativo dichiarativo esplicativo perché l'anticipatore è id che la fama il nome di un privato di un uomo di un cittadino privato fosse sollevato al di sopra del principe vabbè quell'id formidolosum non c'è bisogno di intenderlo come indiretto libero perché id è neutro quindi erat semplicemente quindi quella è la principale e l'altra è l'infinitiva subordinata dichiarativa esplicativa ok invece adesso l'abbiamo con dopo i due punti quindi frustra frustra studia fori et decus artium civilium acta es in silenzium si alius occuparet militarem gloriam quindi in vano le pratiche del foro e il decoro delle arti civili erano state passate sotto silenzio se un altro prendeva la gloria militare eccetera utcunque facilius dissimulare ducis boni imperatoriam virtutem s ess allora eccetera dissimulare utcunque facilius imperatoriam virtutem esse boni ducis questo è un genitivo di pertinenza quindi le altre cose si dissimulano in qualche maniera più facilmente la virtù dell'imperatore è propria del buon comandante la virtù imperatoria talibus curis exercitus quodque seve cogitazioni iudicium erat secreto suo saziatus optimum in presenzia statuit reponere odium donec impetus fame et favor exercitus languesciret vabbè che ci siamo finiamo nam etiam tum agricola britanniam obtinebt allora exercitus partecipio congiunto talibus curis et quodque erat iudicium seve cogitazioni saziatus secreto suo statuit optimum reponere odium in presenzia donec impetus fame et favor exercitus languesceret nam etiam tum agricola obtinebat britanniam ok quindi sollecitato da tali preoccupazioni e cosa che era indizio di un crudele pensiero appagato dal suo segreto pensò che fosse ottimo ritenne ottimo deporre l'odio in presenza in presenza finché l'impeto della fama e il favore dell'esercito si smorzasse infatti ancora agricola deteneva la britannia ok allora vediamo se volete chiarimenti al riguardo tutto chiaro ragazzi vediamo un po' ok perfetto allora proseguiamo con l'altro capitolo e siamo qua ok igitur triunfalia ornamenta et illustris statue honorem et quid quid pro triunfo datur molto verborum onore cumulata decerni in senatu iubet ad dique in super opinionem siriam provinciam agricole destinari vacuam tum morte attili rufi consularis et maioribus reservatam allora igitur igitur poi il verbo lo abbiamo iubet qui quindi igitur iubet triunfalia ornamenta et honorem illustris statue et quid quid datur pro triunfo cumulata molto onore verborum decerni in senatu et sempre iubet addi in super opinionem siriam provinciam destinari agricole tum vacuam morte attili attili rufi consularis et reservatam maioribus pertanto ordina che siano stabiliti in senato e i gli ornamenti trionfali del trionfo e l'onore di una statua illustre e qualunque cosa viene data per un trionfo in cambio del trionfo arricchite di una grande lode di parole e che sia aggiunta inoltre l'idea o la voce che la provincia di Siria era destinata ad agricola allora vuota per la morte di Attilio Rufo di rango consolare e riservata ai più importanti e credidere plerique libertum ex segretioribus ministeris missum ad agricolam codicillos quibus ei Siria dabatur tulisse cum eo precepto ut si in Britannia foret traderentur eunque eunque libertum in ipso fredo oceani ovvium agricole ne appellato quidem eo ad domizianum remeasse sive verum istud sive ex ingenio principis fictum ac compositum est allora plerique credidere che sta per crediderunt libertum missum ad agricolam ex segretioribus ministeris tulisse codicillos quibus Siria adebatur ei cum eo precepto ut traderentur si foret in Britannia et eum libertum in ipso fredo oceani ovvium agricole ne quidem appellato eo remeasse ad domizianum sive verum sottinteso est istud sive fictum sive verum est istud sive est fictum ac compositum ex ingenio principis allora i più credettero che un liberto inviato dai ministeri dagli uffici più segreti avesse portato ad agricola dei codicilli con i quali gli veniva data la Siria con quell'ordine di che fossero consegnati se si trovava in britannia e sempre credettero che quel liberto incontro ad agricola nello stesso braccio di mare dell'oceano non essendo stato neppure convocato lui lui riferito ad agricola quindi credettero che fosse tornato da domiziano o questo è vero o è stato inventato e congetturato dalla mente dell'imperatore tradiderat interim agricola successori suo provinciam quietam tutanque allora interim agricola tradiderat suo successori provinciam quietam et tutam nel frattempo agricola aveva consegnato al suo successore la provincia quieta e tranquilla quindi pacificata ac ne notabilis celebritate et frequencia occurencium introitus esset vitato vitato amicorum officio noctu in urbem noctu in palazium ita ut preceptum erat benit quindi ac ac ne introitus est notabilis celebritate et introitus frequenze occurrentium occurrentium evitato officio amicorum benit noctu in urbem noctu in palazium ita ut preceptum erat quindi è affinché introitus esset quindi il suo ingresso fosse non fosse evidente per folla e affluenza di chi gli andava incontro quindi qua la costruzione ac ne introitus esset notabilis celebritate et frequenze occurrentium ok evitato evitato l'usanza degli amici il dovere degli amici venne di notte in città venne di notte al palazzo così come era stato ordinato il dovere degli amici si riferisce al dovere di salutarli diciamo la la buona creanza di salutarli gli amici ok et exceptus brevi osculo et nullo sermone è accolto da un breve da un piccolo bacio un bacio fugace e da nessun discorso in mixtus est si mescolò turbe servientium alla folla dei servitori ceterum uti militare nomen grave inter oziosos alis virtutibus temperaret tranquillitatem atque ozium penitus ausit cultum cultum modicus sermone facilis uno aut altero amicorum comitatus adeo ut plerique quibus magnos virus per ambizione estimare mos est viso aspectoque agricola quere rent famam pauci interpretare centur allora quindi ceterum ut temperaret nomen militare grave inter oziosos alis virtutibus ausit penitus tranquillitatem atque ozium modicus cultu facilis sermone comitatus uno aut altero amicorum adeo ut plerique quibus mos est estimare magnos virus per ambizione viso et aspecto agricola ablativo assoluto quere rent famam pauci interpretare entur quindi per il resto per mitigare la fama militare gravosa fra gli oziosi con altre virtù rimase completamente nella tranquillità e nell'ozio modesto nell'abbigliamento affabile nel discorso accompagnato da uno o da un altro degli amici a tal punto che parecchi ai quali è costume quindi che hanno l'abitudine di considerare grandi gli uomini per l'ambizione quindi per l'apparenza essendo stato visto e osservato agricola quindi visto e osservato agricola si cercava cercavano la fama quindi si chiedevano la ragione della fama pochi comprendevano ok allora vediamo sempre se avete domande tutto chiaro ragazzi ok perfetto va benissimo allora direi che a questo punto col classico abbiamo concluso e passiamo alla parte della letteratura ok allora dunque questo è un brano sapete che io solitamente vi faccio vi do sempre dei testi da cui partire il vostro libro di letteratura è valido e quindi come dire possiamo permetterci di affrontare le lezioni con supporti migliori e quindi possiamo approfondire anche da testi lo ok allora quindi partiamo da questo testo come dire stimolo dunque intanto vediamo cosa ci dice partiamo dalla lettura allora quando dunque il ragazzo arriverà negli studi al punto in cui sarà in grado di intendere le prime lezioni di retorica bisognerà che ne sia affidato agli specialisti dei quali in primo luogo sarà necessario osservare attentamente la moralità questo argomento ho cominciato a trattare soprattutto qui non perché creda che tale scrupolo sia indispensabile nella scelta degli altri insegnanti come del resto dichiarato nel libro che precede ma perché è l'età stessa dei discepoli che ne rende più necessario l'accenno il fatto è che i ragazzi sono già cresciuti allorché vengono affidati a codesti professori e continuano a restarci presso anche quando sono ormai diventati dei giovani perciò occorrerà porre allora maggior cura affinché l'intemerata serietà del docente protegga dalle offese gli anni più teneri e il polso fermo scoraggi le velletà dei baldanzosi tuttavia il precettore non serve a nulla mostrare grandissima integrità se non gli riuscirà di legare a sé con una severa disciplina la condotta dei suoi allievi or dunque innanzitutto il precettore assuma nei confronti degli scepoli la disposizione d'animo di un padre e pensi di aver preso il posto dei genitori che gli hanno affidati non abbia né sopporti difetti sia austero ma non arcinio cordiale ma non in misura esagerata per evitare nel primo caso l'antipatia e nel secondo la mancanza di riguardo i suoi argomenti preferiti siano l'onestà e il bene che quanto più spesso avrà dato consigli tanto meno spesso dovrà infliggere castigli sia pochissimo irrascibile ma non chiuda gli occhi di fronte ai difetti da correggere il suo insediamento sia chiaro e semplice molta la resistenza alla fatica pretenda quanto è giusto e sempre piuttosto che molto e a sbalzi a chi fa domande risponda di buon grado a chi non gliele fa sia lui a farle nel valutare le esercitazioni degli alunni non esageri né in un senso né nell'altro perché un giudizio troppo severo suscita il tedio dello studio un giudizio troppo largo provoca in chi è lodato sufficienza e trascuratezza nel correggere gli errori non assuma burbanza né tampoco ricorra le offese il motivo di certe avversioni allo studio è che i rimproveri sembrano partire da malanimo ogni giorno dica loro qualcosa anzi molte cose su cui gli allievi tornino a parlare fra loro sebbene la lettura proponga un numero sufficiente di esempi da imitare non di meno il nutrimento più completo è fornito dalla cosiddetta viva voce specialmente del maestro che i discepoli sol che siano stati ben educati amano e rispettano davvero è quasi impossibile dire quanto più volentieri imitiamo coloro per cui proviamo simpatia allora il testo in questione già diciamo è significativo sia dell'autore sia della della sua opera e della finalità che si propose Quintiliano fu il primo come dire professore universitario statale perché fu istituita appunto fu affidata a lui una scuola per istruire alla retorica che ormai era concepita come disciplina utile a formare perfetti funzionari statali anche perché nell'impero diciamo a questo fondamentalmente la retorica serviva e il Quintiliano era convinto a differenza di quello che abbiamo detto poc'anzi parlando di tacito che la decadenza dell'oratoria dipendesse da una educazione da rivedere sia all'interno delle famiglie ma anche a livello educativo e così diciamo traduce quella che è la sua esperienza didattica in un in un trattato in cui affronta tutto il percorso educativo a partire dalla dall'infanzia fino alla completa formazione riprende un concetto il concetto diciamo ciceroniano che come sapete aveva il suo antecedente anche in catone che è quello del virbonus dicendi peritus che sapete anche diciamo il virbonus come si era caratterizzato però nel corso del tempo e il virbonus è adesso una persona che ha una formazione da porre però appunto a servizio dello stato e il quindi la retorica come arte del curare bene nello stile del saper tradurre diciamo il decoro in un in una in un periodo perfettamente calibrato che recupera la lezione ciceroniana e secondo quintiliano l'obiettivo principale da perseguire e la morale si traduce in una fondamentalmente in un recupero diciamo di una sorta di morale tradizionale di un rispetto dei ruoli di una maggiore temperanza non c'è certo alcun cenno ad un pensiero politico ad una libertà politica ad un ruolo di impegno nella società e di tutto questo diciamo in quintiliano non c'è cenno e l'educazione è appunto concentrata semmai sull'aspetto il bonus ecco si caratterizza in termini morali fondamentalmente il lui appunto dicevamo percorre tutte le tappe quindi a partire dall'educazione dei bambini e per esempio ha pregi come quello di aver individuato nel gioco una forma importante attraverso cui insegnare ai bambini ma la morale quindi l'aspetto diciamo dell'educatore che deve rispondere a certi requisiti morali è presente fin dalla prima infanzia e poi dice che a partire dall'adolescenza quando appunto i ragazzi sono più grandi è un aspetto ancora più più rilevante e troviamo già in questo brano delle intuizioni educative di tipo moderno per esempio anche l'aspetto relazionale l'assumere l'atteggiamento del pater familias quindi un aspetto di benevolenza e nello stesso momento di autorevolezza aspetti anche relativi alla valutazione quindi in quintiliano troviamo appunto questa come dire questa modernità di intuizioni sul piano pedagogico e didattico ok allora dal punto di vista linguistico non abbiamo visto il brano diciamo dal punto di vista latino della lingua latina però l'espressione potete vedere già a primo occhio fin dal primo periodo ergo cum adeas in studis vires perbenerit puer ut que prima es precepta retorum diximus mentre consegui possit tradendus aius artis magistris erit vedete come il periodo appare molto più disteso con uso dell'ipotassi più appunto ciceroniano troviamo un cum narrativo una relativa un periodo appunto più ampio e disteso la perifrastica ok e questa è una caratteristica appunto dello stile di quintiliano allora quindi guardiamo anche la scheda di analisi quindi il maestro di retorica è appunto la persona a cui i giovani fanno riferimento quindi importante per la formazione tra la giovinetta l'adolescenza e la giovinezza il ruolo è significativo sia dal punto di vista delle conoscenze sia dal punto di vista relazionale e appunto l'accento è posto sulla sulla morale deve essere una persona integra onesta e amabile l'andamento del discorso è precettistico perché ovviamente quintiliano dà delle indicazioni agli addetti ai lavori ai maestri e la struttura è argomentativa e persuasiva ok c'è questo paragone del maestro come padre di famiglia e c'è una però distinzione tra l'educazione familiare e l'educazione scolastica il rapporto fra maestro e studenti è paragonato ad un rapporto genitori figli quindi ha una natura appunto a carattere filiale la morale a cui si fa riferimento è quella diciamo si caratterizza per sanctitas cioè l'autorevolezza e la gravitas la serietà severitas cioè una selezione diciamo un controllo delle relazioni ok il va bene queste indicazioni chiaramente hanno però al centro la disposizione d'animo che è quella dell'animus patris ok il richiamo è a Cicerone è al al mos maiorum è però diciamo un mos maiorum che non deve essere inteso come atteggiamento rigido autoritario ma appunto autorevole e anche questa è una diciamo intuizione moderna ma che si ascrive già a Cicerone dal punto di vista della reinterpretazione della morale ok è un secondo l'idea di Quintiliano è una il maestro appunto è modello educativo che passa attraverso anche l'affettività e che sa appunto stimolare e promuovere la crescita dei discenti ok oltre a ciò quindi questi sono i caratteri fondamentali dell'opera di Quintiliano c'è però un altro aspetto che da questo brano non viene fuori quindi ve lo ve lo dico io il diciamo lo stabilire un po' un canone perché Quintiliano poi nel decimo libro volendo dare anche delle indicazioni dal punto di vista dei contenuti e dei modelli stilistici da prendere in considerazione passa in rassegna molti autori latini ed esprime un po' un suo giudizio e vi ho già preannunciato che il favore è accordato a Cicerone il modello promosso è appunto quello ciceroniano e per contrapposizione inevitabile non viene affatto apprezzato lo stile di Seneca che viene visto come arido come slegato e quindi diciamo non accettabile a Cicerone Grazie a tutti.